Ah, sto registrando, va bene? Sì, sì, nessun problema. In disattivo come video, eh? Allora, ho solo un problema nel condividere perché mi va a chiudere lo schermo, ma... Guarda che la trasforma in co-organizzatore che magari la aiuta perché... Vediamo, se no, va bene, lo facciamo sì, perché sicuramente sì, perché così a me risulta disabilitata la condivisione. Va bene, allora diventa lei l'organizzatore, registra lei per favore. Perché cambiando non posso più registrare. Ecco fatto. Ok, registrazione. Registro nel cloud, giusto? Sì, va bene. A consenso. Ok. Allora, andiamo qua. E partiamo da questa, che è il lavoro di Massimo e Tommaso sui pipistrelli. Allora, diciamo che in linea di Massima è assolutamente corretta la vita, la vita del pipistrello, eccetera. L'unica, diciamo, piccola imperfezione che si rileva è sul cosa fare, nel senso che in effetti molto spesso può non bastare aprire le finestre perché dipende qual è la motivazione per cui il pipistrello è entrato. Nel senso che normalmente i pipistrelli entrano negli appartamenti per una questione di differenza di luce, quindi buio all'esterno e luce all'interno. Siccome loro sono abituati ad avere, ad avere, a ricercare gli insetti che si avvicinano alle fonti luminose, molto spesso sono attratti dalle fonti luminose perché le collegano al cibo. Per cui in effetti diciamo che il pipistrello, in qualche modo per essere invogliato a lasciare il locale in cui è entrato come ospite indesiderato, dovrebbe avere la possibilità di essere richiamato dallo stesso motivo che l'ha fatto entrare. Quindi in questo caso noi dovremmo creare buio all'interno e luce all'esterno. Diversamente il pipistrello non ha probabilmente una grande motivazione per uscire all'esterno, perché in effetti diciamo che nel momento in cui un animale sceglie di entrare in un ambiente, raramente questo avviene per caso a meno che non ci sia un inganno. Ingano che può essere artificiale, adesso il primo inganno che mi viene ad esempio può essere quello che non c'entra con l'ingresso, ma che è assolutamente pertinente, la rifrazione delle immagini che fanno i grattacieli vetrati. Quindi per un animale, per un uccello o per un mammifero che vola, il vedere un'immagine che viene riflessa da un vetro molto spesso lo può indurre a credere che quella superficie non sia effettivamente un vetro, ma sia un proseguimento del cielo o di quello che riflette. Quindi è il motivo per cui ci si dirige, in questo caso con un esito assolutamente negativo. Per cui partendo dal presupposto che gli animali entrano per due sostanziali motivi, uno appunto perché è un ambiente che in qualche modo ricercano e il secondo perché c'è stato un errore di valutazione è molto più difficile riuscire appunto a farli uscire se non si riesce a creare una motivazione. Per quanto invece riguarda il discorso del pipistrello ferito, non va bene nel senso che se un animale è ferito va comunque recuperato. Se vedete che un animale è in difficoltà perché ha una ferita, sicuramente sarebbe meglio riuscire in qualche modo a catturarlo e a soccorrerlo. In questo caso quindi vanno benissimo usare panni e coperte, però è altrettanto vero che non devono essere usati per allontanare l'animale dal contesto, ma per riuscire a catturarlo in un modo senza traumi per poi consegnarlo a chi se ne possa occupare per curarlo. Perché diciamo che le ferite e i traumi sono fra le più importanti cause di morte degli animali selvatici per cui nel momento in cui osserviamo che c'è questo tipo di difficoltà è importante riuscire a intervenire. Corretta anche invece l'ipotesi perché non si devono uccidere, perché in effetti sono dei bioselettori molto importanti e sono una presenza importante perché regolano comunque le popolazioni di insetti. Tenete presente inoltre che in questo periodo i pipistrelli sono in grande difficoltà perché comunque la biomassa degli insetti sta diminuendo e quindi da questo punto di vista anche loro fanno molta fatica a trovare il cibo. In più questa altalenanza di stagioni crea ulteriori problemi. è un animale che comunque d'inverno va in letargo e quindi esce sentendo le temperature primaverili e rischia di uscire e di non trovare cibo. Quindi una doppia difficoltà. Umberto ti viene in mente qualcosa che vuoi aggiungere? Io aggiungerei soltanto se dopo il periodo della chiusura delle ferie estive ci dovessero essere degli esemplari all'interno quando si accede all'aula magari verificare che non ci siano nidi, che nel frattempo non ci siano comunque situazioni o fessure dove loro nel frattempo durante il periodo di assenza della scuola possano avere comunque già fatto un nido. Quindi a quel punto sicuramente chiamare una delle associazioni come la nostra per verificare che non ci siano appunto situazioni di questo tipo perché potrebbe essere la combinazione della presenza del pipistrello non dovuta ad un ingresso accidentale o magari appunto alla presenza del nido. Nel frattempo hanno costruito un'altra risposta. Certamente. Avete domande che volete fare sulla questione dei pipistrelli? in particolare chi ha fatto questa slide? No, allora, no, io ho fatto insieme a Tommaso questa slide e ho capito e quindi sulla questione all'interno, luce all'interno, cioè noi dobbiamo creare buio all'interno, cioè fare in modo che ci sia luce all'esterno e buio all'interno affinché esca o incontrare, cioè non ho capito questa cosa. No, voi dovete creare, allora, il pipistrello è un animale calcuscolare notturno, per cui diciamo che esce al tramonto e rientra nelle sue cavità, nei suoi ricoveri all'alba. Normalmente entrano nelle case, nelle abitazioni, quando c'è la luce accesa. Questa è la motivazione, diciamo che a questa motivazione si aggiunge soltanto il fatto che mi ha fatto venire in mente il collega che in effetti se aveste, per esempio, dei cassonetti di tapparelle o delle persiane a scomparsa dove i pipistrelli possono entrare come rifugio, potrebbero entrare anche perché vivono, si sono stabiliti in quella zona. Però tendenzialmente il concetto è fare buio all'interno e luce all'esterno, perché appunto dovendo cercare le prede il pipistrello se ne andrà verso la luce. Grazie. Altre domande sui pipistrelli? Allora direi che passiamo alla slide successiva. Aspettate perché... Parliamo adesso dei ricci. Quindi vedete la slide o ci sono problemi? No, la slide non c'è. La slide non c'è, perfetto. Abbiate pazienza, ma... Pensavo, ma sto andando al discorso del pipistrello, che facciamo l'esterno. Potrebbe essere che, siccome noi non abbiamo tanto modo di giorno di fare buio dentro le aule, nell'episodio dell'aula avremmo dovuto spegnere la luce, uscire, far tenere la finestra spalancata, poteva valer la pena, secondo me una pila ce l'abbiamo a scuola, creare una fonte artificiale di luce illuminando l'esterno di più con una torcia? Allora, questo è un discorso possibile, però il discorso possibile è che il fascio di luce non deve partire dall'interno, ma deve partire dall'esterno. Per cui diciamo che qualcuno dovrebbe andare fuori, nel senso che i pipistrelli non riescono a vedere questa cosa come se fosse una via luminosa e un'indicazione di salvezza. E quindi da questo punto di vista non funziona, insomma, come discorso. Ok. Benissimo. E poi, se ho capito bene, lasciamo il panno, perché il panno e la coperta è comunque una buona idea. Però certo, se il pipistrello è ferito, facciamo in modo che possa essere soccorso, questo è il senso. Sì, diciamo che se il pipistrello è ferito va assolutamente, va assolutamente soccorso, sì, per cui questo è importante, è importante sicuramente. Allora, scusate, ma ho difficoltà a condividere le slide, non capisco perché. Adesso c'è? No, no, no. No, è un... Sì, adesso le hai sotto, condividi tutto lo schermo, quindi dovresti cercare una e forse riesci a... aprire una soltanto. Così si vede? Sì. Ok. Allora, sulla questione ricci, diciamo che i ricci sono animali sicuramente molto frequenti da incontrare, sono animali anche molto tranquilli, non sono aggressivi, non possono creare problemi, possono mettersi facilmente nei guai per questioni di ricerca di cibo o altre avvenienze di questo genere. Quindi sicuramente diciamo che l'idea è sempre quello di capire se si vede un riccio, capire se effettivamente questo animale sia o meno in pericolo, è un po' il discorso che abbiamo fatto nel corso del nostro primo incontro. Il riccio è un animale che ha una velocità non bassa, ma non è così immediato anche nel darsi alla fuga, per cui potrebbe vedervi magari tardivamente essere in una situazione diciamo seminaturale o comunque in una buona situazione e non avere bisogno di essere a soccorso. Per cui diciamo che dovete riuscire a capire un po' da quella che è la stagione, un po' da quello che sono i comportamenti del riccio, nel senso che se un riccio ha un comportamento comunque vitale, si muove, si sposta, cerca di allontanarsi da voi, dovete osservarlo, ma sicuramente non dovete sempre cercare di raccoglierlo, perché comunque potrebbe non essere assolutamente in difficoltà. Quindi il soccorso deve avvenire soltanto in caso di difficoltà, diversamente se è in una zona protetta l'animale va assolutamente lasciato lasciato dov'è. Giusto il consiglio di prenderlo sempre con i guanti e metterlo in una scatola e tendenzialmente diciamo che il compito potrebbe essere quello o di prendere l'animale, catturarlo, metterlo in una scatola e liberarlo, perché diciamo che se voi ve lo trovate a scuola questo riccio salvo che non sia stato in qualche modo portato artificialmente di fatto a scuola vuol dire che ci vive nel senso che probabilmente vive nel giardino del vostro istituto che è una cosa anche abbastanza frequente. Quindi da questo punto di vista la soluzione potrebbe essere quella di prendere il riccio che è entrato all'interno dell'istituto e portarlo all'esterno in una zona più tranquilla possibile, poi sarà lui a scegliere dove come dirigersi perché appunto tendenzialmente diciamo che se è lì un motivo un motivo ce l'ha. Nel momento in cui doveste prenderlo se non ci sono grossi problemi il consiglio ma questo vale per il riccio vale per tutti gli animali selvatici è quello di non improvvisare soccorsi ma neanche alcune volte nel dare cibo nel dare acqua se non sono momenti particolari o se l'animale non deve passare ad esempio una notte perché viene trovato in una condizione particolare ma trovandolo in un ambiente come quello che può essere la vostra scuola l'ideale sicuramente è prenderlo rimetterlo in libertà oppure prenderlo e consegnarlo a un centro di recupero oppure a un'associazione che si possa occupare di lui con una serie di accortezze perché in effetti il problema vero è che questi animali tutti gli animali selvatici sono molto molto delicati e alcune manipolazioni alcuni contatti ma anche alcuni cibi non vanno bene per cui è giusto il consiglio di non dargli da mangiare latte e di usare magari i croccantini per gatti come il miglior modo per alimentare un subadulto un adulto magari sui cuccioli eviterei proprio la somministrazione di latte e cercherei di consegnarli nel minor tempo possibile a un centro di recupero Umberto Su questo aggiungerei soltanto eventuali presenze di animali di riuscito alla stagione magari in autunno quando fa particolarmente caldo perché le giornate sono un po' attifiche e magari si risvegliano dall'etargo e in quel caso bisogna intervenire e magari meglio portarlo in un centro di recupero perché sono disorientati Sì diciamo che purtroppo anche i ricci subiscono un po' le problematiche dovute ai cambiamenti climatici quindi da una parte anche loro hanno problemi perché trovano meno alimento trovano meno biomassa e quindi meno insetti meno lumachine meno cose le quali si nutrono la seconda cosa è che in effetti con queste temperature che sono abbastanza altalenanti il rischio è che nascano o quando fa ancora troppo freddo o quando fa ancora caldo ma nell'imminenza dell'autunno e quindi non riescono a crescere in modo sufficiente per poter poi superare il letargo che comunque per un animale per un mammifero è una cosa difficoltosa perché si tratta ovviamente di mettersi in uno stato diciamo di torpore di semi ibernazione che dura del tempo ma che non è che proprio porti un consumo assolutamente azzerato delle risorse perché in effetti anche la riduzione del battito cardiaco delle attività dell'animale comunque il mantenere il calore e il mantenere al minimo le funzioni vitali crea dei consumi quindi se questi consumi energetici non sono supportati da una da una massa nutritiva di grasso e di altre sostanze che possano fargli superare il letargo il rischio è che si ritrovino poi all'inizio dell'autunno troppo piccoli per poter fare questa operazione quindi possono andare incontro a morte quindi come diceva giustamente Umberto se trovate questi animali sul finire di settembre verso metà ottobre e vedete che sono molto piccoli sicuramente può essere una buona cosa molto piccoli e poco reattivi può essere una buona cosa prenderli e affidarli a un centro di recupero o a un'associazione avete domande su questo? passiamo io ne ho una in questo caso non ci mettiamo una coperta? allora il modo per prenderli può essere o dei guanti da lavoro dei guanti da giardinaggio o una coperta diciamo che tendenzialmente i ricci sono animali molto tranquilli quindi è difficile che mordano ma hanno questo cuscino spinoso che qualche problema lo può creare quindi per non rischiare problematiche sicuramente la cosa migliore è avere le mani protette o utilizzare una coperta tra l'altro la coperta se maneggiata correttamente è sempre un ottimo strumento per la cattura diciamo degli animali in difficoltà ovviamente è importante dosare la forza perché molte volte si ha la 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 prensione di un animale all'interno di una coperta che non lo si vede se non si riesce a dosare la forza e quindi a capire che diverso il riccio diverso il pipistrello come mole si rischia di fargli male anche attraverso la coperta per cui magari usare noi diciamo una coperta ma magari cose anche che siano un po' più leggere in maniera da riuscire ad avere una miglior percezione di di quello che che è la mole dell'animale e di di come riuscire a prenderlo trattenerlo ma senza schiacciarlo io questo lo metterei in poi nelle varie slide perché comunque di Turini noi abbiamo dei teli e quindi può essere una soluzione per anche proprio per allontanare l'animale senza fargli del male pensavo alla coperta perché pensavo quando lei diceva sul finire dell'autunno magari patiscono il freddo mi chiedevo se la scatola era sufficiente se una scatola portata dentro perché tra quando lo prendiamo e quando lo portiamo al centro di recupero passa un po' di tempo quindi se era il caso di creare anche un isolamento termico questo era il senso mio allora diciamo che la coperta si fa isolamento però il problema il vero problema è che se un animale è ipotermico se non riesce a riscaldarsi perché è in difficoltà il nostro riscaldamento corporeo è la la più grande fonte di dispendio energetico diciamo e quindi la coperta di per sé non aiuta l'animale a scaldarsi aiuta l'animale magari a dissipare meno calore nell'ambiente circostante per cui se il tempo è davvero freddo una buona accortezza potrebbe essere quella di mettere in una scatola una coperta e sotto la coperta mettere magari una bottiglietta d'acqua con dell'acqua tiepida non caldissima che possa fare un po' da bull dell'acqua calda e possa trasmettere calore quindi se vedete che è un animale ipotermico e che si muove con difficoltà sicuramente questo di usare una bottiglietta d'acqua come se fosse una borsa dell'acqua calda può essere un aiuto non mettetelo su fonti di calore perché è difficile tarare esattamente la quantità di calore necessaria per cui il rischio è che un eccesso di calore anziché creare un beneficio possa fare un danno Umberto l'unica cosa appunto sul cibo nel caso di ritrovamento in tarda serata in cui non si riesce comunque a portarlo presso un centro come dicevamo l'altra volta sicuramente consultare qualche associazione come la nostra per avere indicazioni su come esercire la notte ecco loro mangiano spesso come quando sono cuccioli come tutti cuccioli e anche di gatto e quindi gli darebbero delle indicazioni fondamentali proprio per il superamento della notte sì è importante come sempre non improvvisarsi mai ma fare cose delle quali si ha effettivamente una certezza perché poi questi animali sono talmente piccoli e delicati che alcune volte l'aiuto si trasforma facilmente in danno insomma questa cosa non va ovviamente bene se non ci sono altre domande sul riccio vediamo se riusciamo a passare allo scoiattolo mi date conferma che si vede? ok allora lo scoiattolo è un animale un pochino più più complicato per tutta una serie di motivazioni perché gli scoiattoli mordono ovviamente non mordono per aggressività ma mordono per paura e quindi questo è un problema e sono animali comunque tendenzialmente molto veloci questo cosa vuol dire che se uno scoiattolo entra all'interno di un edificio di una stanza dovete stare molto attenti a calibrare anche lì la forza nel senso che ad esempio se usate strumenti impropri come potrebbe come una scopa o qualche cosa che non sia morbido il rischio è che nella velocità dello scoiattolo e della vostra le due velocità si sommino e quello che potrebbe essere un gesto delicato diventa un gesto pericoloso quindi usare sempre da questo punto di vista le coperte i teli qualche cosa che in qualche modo tenda a far dirigere l'animale dalla parte desiderata insomma che non è esattamente magari quella in cui lui vorrebbe andare gli scoiattoli non hanno artigli di fatto hanno delle unghie ma non sono gli artigli quindi non possono fare dei micrograffi l'unica vera pericolosità e questo vale un po' per tutti gli animali è mettersi al riparo dai morsi questo per una serie di buoni motivi perché i denti sono comunque un veicolo di batteri e quindi riuscire a non farsi mordere è sicuramente una cosa una cosa importante ovviamente torniamo al discorso fatto prima con il pipistrello lo scoiattolo probabilmente o è entrato per curiosità o è entrato alla ricerca di cibo o magari qualcuno sbagliando gli aveva in passato offerto cibo e gli animali ricordano questa cosa voi dovete ricordarvi sempre mi sembra che l'abbiamo già affrontato nello scorso incontro non bisogna mai alimentare gli animali non bisogna mai poi si crea un'abituazione un'abitudine ad andare e a richiedere cibo per cui le distanze con l'uomo si abbreviano sempre di più e questa cosa non è né desiderabile né carina perché un selvatico vivo per essere vivo deve avere paura dell'uomo nel momento in cui voi gli create uno stato di confidenza lo risponete comunque a dei pericoli ovviamente come per il riccio se lo scoiattolo è entrato è perché abita nelle vicinanze quindi da questo punto di vista la cosa più intelligente è quella di metterla all'esterno e di riuscire così a rimetterlo nel suo ambiente naturale senza creargli pericoli come si diceva lo scoiattolo a differenza del riccio è molto molto veloce e quindi bisogna avere mille attenzioni perché non si faccia male perché poi alla fine è molto veloce è molto nevrile come animale ma parliamo sempre di un esserino che pesa poche decine di grammi insomma per cui è ovviamente delicato ci sono domande su questo? no non mi viene in mente altro riporto soltanto un esempio che ci è capitato poco tempo fa anche qui di due scoiattoli che probabilmente hanno nidificato in un'intercapedine di un muro di un'abitazione e anche in questo caso prima di fare qualsiasi intervento consultare l'EMPA o altre associazioni che si occupano di queste problematiche perché in quel caso abbiamo appunto dovuto chiamare i vigili del fuoco verificare che non ci fossero ancora dei piccoli prima di fare intervenire poi la manutenzione per evitare che si potesse ripetere questo episodio perché dicevo prima Armando la vicinanza poi con gli umani diventa a volte anche a farli avvicinare troppo e imprintare perché magari si avvicinano a loro cibo per curiosità e per simpatia io volevo aggiungere che proprio per evitare che questo rischio diventi una costante visto che ci è già capitato vorrei evitare di avere tutte le stagioni lo scoiatro dentro le aule che è un animaletto carinissimo però forse dentro le aule meglio di no e ho fatto portare gli alberi in modo tale che i rami non entrassero direttamente in contatto con le finestre perché era esattamente quello il veicolo che loro usavano e come potevano pensare che non fosse una strada privilegiata avere dei rami un'ottima idea devo dire devo dire che bisogna continuare a stare appresso perché anche gli alberi credono la manutenzione del verde non è sempre eccezionale anche da parte della città metropolitana adesso abbiamo raggiunto un accordo migliore per cui comunque quella è una parte del problema invece volevo chiedere al gruppo che ha fatto questo lavoro intanto vi complimento con tutti i gruppi perché avete scelto una bellissima grafica sono delle slide molto belle tutte bellissime tutte sui toni del verde e del giallino che saranno benissimo con l'insieme volevo chiedere al gruppo se ha chiaro cosa deve integrare in questo slide perché mentre nelle precedenti c'erano un paio di cose da correggere in questa mi sembra che ci sembrano semplicemente delle cose da aggiungere studenti io sono stata una di quelli che che l'ha fatto bene Francesca è chiaro che cosa devi aggiungere cosa dovrete aggiungere non tanto perché a me pareva che non fosse chiarissimo dottor giudici dottor di Buonaventura che cosa è importante che aggiungiamo allora sicuramente è importante togliere la definizione artigli perché appunto si tratta di unghie non di artiglie quello è importante ma per il resto direi che da aggiungere non c'è tantissimo nel senso che comunque diciamo che forse dovete aggiungere soltanto la parte di utilizzare per spostare lo scoiattolo verso la destinazione desiderata strumenti tipo appunto coperte teli cose morbide che non possano causargli danno questo è è un po' il il consiglio di modifica e ovviamente quello che va aggiunto un po' dappertutto ma che dovete considerarlo più come un buon consiglio insomma anche il dire lo mettiamo nella scatola vuol dire farlo con con buona grazia molta attenzione perché diversamente anche questo tipo di cattura se l'animale è in qualche modo vigile può creargli problemi nel senso che magari un movimento sbagliato vi porta a dargli la scatola addosso e questo potrebbe creare un problema un consiglio che vale per tutti non vi fidate del fatto che un animale sia magari in condizioni tali da sembrare morente quindi poco reattivo la paura e il momento di stress come avviene per noi portano gli animali a delle reazioni impreviste per cui alcune volte un animale che può sembrare moribondo nel momento in cui va andato a prenderlo per prenderlo e metterlo in una scatola potrebbe avere una reazione quindi considerate sempre come se l'animale fosse comunque in grado di avere una reazione importante non date mai per certo il fatto che siccome è lì tranquillo sia per forza maneggevolissimo allora potremmo dire in generale in generale muoversi garantendo la sicurezza per lui ma garantendo muoversi in sicurezza anche per chi cerca di intervenire sull'animale quindi sempre meglio avere dei guanti magari un po' lunghi e appunto questi teli che avviano morsi o graffi va bene quindi riepilogando togliamo gli artigli che non ci oppure li sostituiamo in unghie ma in realtà credo che il vero problema siano i morsi aggiungiamo al discorso della coperta mettiamo di poter porre con garbo l'animale con precauzione l'animale nella scatola e agire in sicurezza con dispositivi come? agire in sicurezza con dispositivi per possibile va bene per il resto va bene d'accordo va bene passiamo alla slide si va bene grazie gli uccellini gli uccellini vedete la slide perché io non ok gli uccellini sono in effetti una cosa abbastanza complessa per un motivo che appunto come dicevamo prima sono per lo scogliattolo ma qui andiamo ancora nel più piccolo spesso sono animali che hanno il peso di pochi grammi e quindi una delicatezza e una fragilità importante quindi sicuramente è corretto che se l'uccellino è piumato non si tratta di un involo perché detto così sembra che si chiami involo ma nella realtà diciamo che è un volatile che ha iniziato a fare i suoi primi voli non sempre i primi voli funzionano bene quindi può essere caduto al suolo e in questo caso siccome gli uccelli ricevono cure dai genitori viene nutrito dai suoi genitori fino a che non sia in grado di riprendere il volo e quindi questo da questo punto di vista è corretto quindi bisogna accertarsi che l'animale non sia ferito e che come scrivete giustamente voi che non sia in un luogo pericoloso sul fatto di muoverlo ecco su questo bisogna avere delle cautele perché in effetti ogni volta che noi tocchiamo gli animali selvatici gli lasciamo comunque un odore e questo molto spesso crea poi problemi di riconoscimento con i genitori e può creare anche un'interferenza non voluta che può portarli a non a non farli accudire quindi l'ideale tendenzialmente è quello più di non muoverli se non sono in un luogo pericoloso e se sono in un luogo pericoloso magari usare dei guanti oppure spostarli sempre attraverso una una scatola come come concetto quindi avere la possibilità di di spostarli con qualche cosa che non lasci che non siano le mani nude ovviamente in questo caso non basta lo spostamento e questa cosa è importante invece che voi l'aggiungiate non basta lo spostamento ma ci vuole poi la successiva osservazione nel senso che se voi lo spostate sicuramente l'avete messo in sicurezza ma perché un animale possa poi sopravvivere e riprendere la sua vita ha bisogno di essere accudito dai genitori quindi voi dovete avere la pazienza di stare lì una mezz'oretta tre quarti d'ora ovviamente da lontano e accertare che i genitori effettivamente scendano da lui e se ne occupino perché diversamente non ce la farà potrebbe non farce e a quel punto sarebbe molto meglio recuperarlo e metterlo in una scatola e portarlo ovviamente a un crash questa deve essere l'ultima soluzione perché comunque l'attività umana con gli animali selvatici non è una garanzia sempre di salvezza quindi meglio lasciar fare la madre natura fino a che la cosa è possibile quindi deve essere l'ultima razio e per fare questo bisogna avere un'osservazione attenta giusta il riquadro che riguarda i rondoni perché in effetti il rondone è un animale con una grande apertura alare e delle zampine molto corte e questo vale per tutti i suoi simili dalle rondini ai balestrucci ai topini ai rondoni e quindi loro passano praticamente la vita in volo e si gettano dai nidi senza mai toccare terra quindi nel momento in cui toccano terra hanno un'impossibilità fisica nel ripartire e quindi in quel caso vanno sicuramente recuperati si può provare a metterli su un luogo alto come dite voi o se siete in una zona erbosa si può anche lanciarli leggermente verso l'alto ovviamente siete in una zona erbosa con pochi pericoli e vedere se riprendono il volo e questo da questo punto di vista funziona sul cosa non fare allora allontanarlo dal luogo sicuramente questo non va fatto non va fatto se decidiamo che la nostra attività non deve essere di recupero ma deve essere semplicemente di monitoraggio nel caso sia invece un animale che si vede che non viene accudito sempre mediante l'osservazione a quel punto va assolutamente spostato quindi io metterei allontanarlo dal luogo non va fatto ed è una prassi auspicabile solo nel momento in cui si controlli e si verifichi che i genitori in effetti non scendono e non hanno un'attenzione nei confronti del piccolo sicuramente dargli da mangiare in una situazione di quel genere non va assolutamente bene per cui a quel punto bisogna prenderlo e portarlo in un luogo protetto l'unica cosa che aggiungerei è la verifica dei eventuali pericoli intorno alla sua zona se siamo su marciapiede su una strada trafficata piuttosto che presenza di altri animali come gatti in quelle circostanze il tentativo di posizionarlo e magari in un porto più alto sempre utilizzando guanti o anche scatole magari mette a rischio la vita comunque del piccolo quindi conviene comunque recuperarlo e portarlo in un altro centro o un crass anche qui faccio un riepiro da una ragazza che ha fatto questo lavoro vediamo se abbiamo capito cosa dobbiamo cambiare io non ho capito solo una cosa ma dobbiamo lasciarlo l'involo o no allora scritto così come l'avete scritto se l'uccellino presenta un piumaggio si tratta di un involo è un non è correttissimo nel senso che cambiamo allora anche lì il problema del piumaggio io metterei se l'uccellino presenta un piumaggio completo quindi cioè non se ha qualche piuma ma se assomiglia a un adulto insomma come come grado di 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 piumaggio perché diversamente se non ha tutte le piume quest'animale non volerà mai e quindi a quel punto non si tratta di un di un piccolino che ha cercato di fare il suo primo volo ma si tratta di un animale caduto dal nido e a quel punto il tempo di allevamento da parte dei genitori sarebbe troppo lungo per non esporlo a pericoli e a meno che non sia in una zona super sicura sarebbe più opportuno trasferirlo al torore quindi lo cambierei mettendo che se l'uccellino ha un piumaggio completo si tratta di un tentativo ma riuscito dei primi voli di fare i primi voli e che nel caso sia caduto al suolo perché appunto non è riuscito a compiere interamente il suo primo volo verrà accudito dai genitori sempre con l'accortezza appunto di vedere che questo accudimento esiste e ci sia ma allora la parola in volo che poi non si dice in volo ma in volo che cosa significa veramente? Allora l'in volo è quando un uccello prende il volo per cui diciamo che si può dire c'era un passero sul balcone e si è involato è un termine magari un po' desueto più usato come termine magari tecnico però diciamo che l'in volo è proprio l'atto del prendere il volo non è legato semplicemente all'abbandono del nido se questo era il senso diciamo che se sono abbastanza più mati fanno un tentativo di primo in volo dal nido ma che riesce male sostanzialmente a quel punto mancano praticamente soltanto magari un paio di giorni perché il pullus venga comunque alimentato continuano ad alimentare i genitori e poi sarà pronto per imbolarsi però ecco come dicevamo l'altra volta cioè l'implume e il piumato sono due esserini completamente diversi quindi possiamo fare se l'uccellino presenta un piumaggio completo è probabilmente un uccellino che sta iniziando a volare togliamo la parola in volo che così suonava tanto bene ma forse non è corretta ci aggiungiamo completo mentre che in che cosa fare dobbiamo mettere fermarsi una mezz'oretta circa lontana non visibile per vedere se poi i genitori vengono ad accudirlo mi sembra che sia queste le cose più importanti esatto esatto io tra l'altro vi racconto e usare i guanti e usare i guanti nello spostarlo nello spostarlo e i guanti vediamo abbiamo i guanti usagetta a scuola perfetto vi racconto vi racconto la motivazione perché magari uno non riflette su questa cosa sul perché gli uccellini tentano di volare e poi magari non ci riescono perché ovviamente tutta la loro abilità è legata alle masse muscolari è molto difficile farsi le masse muscolari all'interno di un nido e quindi voi spesso vedete anche nei documentari che vedete questi uccelli che sbattono le ali prima di volare magari lo fanno per giorni perché in effetti devono riattivare e potenziare i muscoli e per alcuni uccelli è più facile ad esempio quelli che nidificano come molti rapaci su nidi piatti e di grandi dimensioni è più difficile per gli uccelli che nidificano in cavità in piccoli nidi è ancora più difficile per gli uccelli come rondoni e balestruci che letteralmente per riuscire a fare il tono muscolare devono uscire dai loro nidi che sapete che sono questi contenitori diciamo fra virgolette di terra costruiti dai genitori e devono appendersi fuori perché non hanno possibilità di sbattere le ali all'interno del nido e quindi da questo punto di vista insomma tutto verte e ruota intorno alla loro massa muscolare un po' come se fossero dei piccoli atleti domande? ok allora passiamo alla slide successiva la volpe allora diciamo che partiamo dal presupposto che una volpe è difficile che ve la troviate davanti nel senso che se ve la trovate davanti una volpe significa che è un animale che ha dei problemi o è stato abbelenato o è stato investito o è ferito perché la volpe è un animale di estrema intelligenza molto guardingo molto attento è difficile che venga che si faccia trovare di sorpresa dagli uomini anche perché ha un ottimo udito e quindi sente anche il nostro avvicinamento ovviamente l'unico comportamento che la può ancora una volta trarre in inganno come sempre è quello del dargli da mangiare quindi bisogna assolutamente evitare di dargli da mangiare perché il cibo abbiamo visto che è il mezzo di fra virgolette è quello che crea un ponte fra uomini e animali e non va bene sicuramente bisogna stare a debito a distanza e cercare di capire che cos'ha ed è un animale che non dovete maneggiare non dovete maneggiare per una serie di buoni motivi perché comunque è un animale che può mordere ovviamente con una dimensione anche diversa da quella che è un che può essere uno scoiattolo e quindi ovviamente sono animali che devono essere maneggiati soltanto da persone esperte che sanno come comportarsi quindi il vostro compito deve essere quello semplicemente di valutare se esiste un problema se l'animale magari non si allontana spontaneamente o vedete che è in condizioni di sofferenza a quel punto chiedete un intervento dovete cambiare sicuramente gli obiettivi della segnalazione perché il corpo forestale dello Stato è stato sciolto anni fa e non c'è più adesso ci sono i carabinieri forestali che hanno inglobato il corpo forestale dello Stato e in provincia di Milano anche la polizia provinciale praticamente non fa più compiti o non fa quasi più compiti di questo genere esiste un nucleo faunistico regionale ma sicuramente la cosa più importante è segnalarlo al corpo forestale dello Stato al 1515 o eventualmente anche alla polizia locale sicuramente un ottimo consiglio quello della prevenzione di di non lasciare rifiuti in giro perché i rifiuti sono quelli che attirano tutti gli animali non solo le volpi e lasciare le piccole volpi dove sono è un buon consiglio diciamo che poco realizzabile nel senso che le volpi normalmente si riproducono in tane quando escono sono già animali che possono avere una vita autonoma e quindi difficilmente voi troverete una volpa adulta con i cuccioli o cose di questo genere per cui sicuramente è un tipo di attenzione quella di non toccare gli animali che va sempre bene ma magari potreste anche questa parte eliminarla e nel caso in cui si trovi in campagna chiudono gli animali più piccoli nelle gabbie diciamo che la protezione degli animali dei predatori specie sono animali domestici è sicuramente una una buona consuetudine anche perché in campagna ci sono tanti animali che che essendo appunto predatori potrebbero rappresentare un pericolo o per gli animali da compagnia che abbiamo o per gli animali d'allevamento quindi sicuramente non lasciare animali incustoditi e soprattutto piccoli animali li mette a riparo perché poi ovviamente non ci sono solo volpi ma ci sono volpi donnole faine anche lupi in alcune zone per cui ci sono una serie di buoni motivi per cui gli animali vanno protetti Umberto Umberto è qualcosa avete domande su questa questione avete qualche cosa che volete aggiungere ok cioè quindi noi dovremmo cambiare il terzo punto e quindi mettere polizia locale giusto? no potete mettere o i carabinieri forestali che sono praticamente il corpo che ha assorbito il corpo forestale dello Stato sono diventati i carabinieri forestali o o al nucleo faunistico regionale o alla polizia locale diciamo che poi nel momento in cui voi segnalate comunque la presenza dell'animale poi i vari corpi di polizia si attiveranno per ottenere il recupero da parte del delente giusto per cui diciamo che il concetto fondamentale è quello di avvisare qualcuno che possa farsi carico della segnalazione ok grazie e poi una cosa un'altra cosa non ho capito perché c'è scritto Emma e Rudolf perché ce l'avremmo fatto io che mi chiamo immagine e un'altra un'altra che si chiama Gaia che non mi ricordo il mio nome ah ok è già arrivato così però sotto questo profilo volevo dirvi che nella versione che voi mi mandate toglierò qui comunque i nomi perché nella slide quella in cui vi ho detto magari mettiamo fotografie non siamo riusciti a fare la vostra fotografia la sposto in fondo però nella presentazione e metto i vostri nomi quindi spariscono i nomi e siete messi tutti assieme come gruppo al di là di quali sono le slide che avete fatto quindi tutto questo lo risolviamo non lo so come mai ah ok va bene grazie intanto che correggete guardate che non si chiude la parentesi dove dite prevenzioni aperta parentesi se non ci sono altre domande passo alla slide successiva cosa fare con gli uccelli feriti e in effetti questo è un un tema importante perché capita molto spesso che gli animali si feriscano e in particolare in particolari volatili diciamo che il il cosa fare va quasi tutto bene l'unica cosa che non va bene è in caso di ferite aperte disinfettare con bialcolo acqua ossigenata no non fate nessuna pratica in qualche modo medica a meno che non vi troviate in una situazione veramente disperata nel senso che se siete in mezzo alla campagna vedete che ci sono una serie di problemi che l'animale ha un principio di infezione uno potrebbe anche pensare però l'uso di disinfettanti l'uso di pomate il fare terapie è veramente una cosa sempre molto molto sconsigliata per cui non disinfettate recuperate l'animale e poi quando arriverà a destino ci se ne occuperà perché in effetti non è non è una cosa così così semplice non tutti i disinfettanti vanno bene possono creare dei problemi per cui anche in questo caso io rischio di fare più danno che vantaggio come alimento somministrare carne macinata dipende nel senso che non tutti gli animali mangerebbero la stessa cosa e quindi anche su questo il concetto è che se una persona non ha delle esperienze specifiche il consiglio è sempre quello di soccorrere e portare perché se no si rischia poi di creare con alimentazioni sbagliate una serie di problemi e in più calcolate che più gli animali sono di piccola dimensione e più è difficile imboccarli dargli da mangiare in modo artificiale eccetera per cui si rischia di fare più danno che non vantaggio quindi questa cosa ha un senso solo se diciamo devono passare un tempo abbastanza lungo come ad esempio un intero intervallo notturno a casa di qualcuno allora a quel punto uno può provare però come concetto può provare sempre con la logica dell'offerta quindi prendiamo una pinzetta vediamo che tipo di animale è e magari cerchiamo di capire anche cercando in rete qual è il tipo di cibo che può mangiare o chiedendolo magari a un'associazione e gli potete offrire il cibo se l'animale non mangia non mangia lasciate perdere una cosa invece importante è quello di somministrargli dell'acqua come si fa a somministrare dell'acqua a un uccello ferito si prende una siringa senza ago una piccola siringa se l'avete da insulina ma va bene anche un'altra piccola siringa e la si riempie con poca acqua si fa uscire una piccola goccia e si pone questa goccia col bordo della siringa sull'angolo laterale della bocca del becco dell'uccello in maniera che a quel punto nel momento in cui voi l'avvicinate lì per diciamo per una sorta di osmosi l'acqua un po' entrerà in bocca e l'animale comunque dovrebbe riuscire a prenderla e questo è il vantaggio di avere di potergli dare dell'acqua che è una componente importante più importante del cibo senza farlo in un modo traumatico e senza rischiare di fargliel'andare di fargliel'andare di traverso che potrebbe essere un problemino non da poco poi non prendere mai volati da mani nude non solo per evitare di essere feriti ma anche perché in effetti comunque abbiamo detto è meglio sempre non trasferire odori quindi dipende poi ovviamente dal tipo di animale perché se è un rapace va preso ovviamente con determinate cautele se è un passerotto le cautele sono più che altro non tanto di protezione per noi ma di protezione per lui non posizionare la scatola su stufe come abbiamo detto prima e questo sicuramente va benissimo il lasciare gli animali tutti in una stanza tranquilla senza andare continuamente a vedere e evitare qualsiasi pratica che appunto sia una cura veterinaria improvvisata non somministrare mai molliche di pane e latte derivati dal latte e questa è un'ottima è un'ottima precauzione comunque non date mai cibo appunto che l'animale non prende direttamente da solo perché il rischio poi è di fargli fare una manualità di dover fare voi una manualità per la quale non avete esperienza e che può provocare un danno Umberto mi sembra che sia stato detto tutto la pratica appunto dell'acqua come dicevamo l'altra volta potrebbero avere dei problemi di ingerire acqua delle vie respiratorie per cui causare dei danni quindi sicuramente quella è la cosa migliore da fare altro al momento un po' che ha fatto questa bellissima slide perché come tutte sono belle questa è particolarmente bella anche come grafica quindi ripilogando si toglie la medicazione si aggiunge come si dosa l'acqua con la seringa senza ago al lato del becco e non ho ben capito come va corretta la parte della carne macinata se va lasciata se no e poi vorrei vedere chi sono gli autori di questo video che magari di questa diapositiva che magari hanno delle altre domande chi sono? chi l'ha fatto? io e Claudia Marzullo bene Anna stia chiaro come va cambiato hai delle domande? no no è abbastanza chiaro è stato abbastanza chiaro sì grazie ottimo lavoro come tutti quanti allora per quanto riguarda l'alimento l'alimento bisogna capire il tipo di animale nel senso che bisognerebbe offrirgli un cibo che sia compatibile con con quello che normalmente mangia per cui sicuramente per un rapace va benissimo la carne macinata potrebbe andare bene anche per un insettivoro in dosi molto molto piccole per un granivoro adulto come un piccione un passero diventerebbe un problema perché in effetti è molto meglio dargli del cibo o dei semi e poi ci sono una serie di animali diciamo onnivori come i corvi dove si può dare frutta carne macinata e altri tipi di cibo il problema è che è difficile riassumere in una slide come alimentare perché in effetti dipende dalle specie bisognerebbe suddividere le specie e per quello che io forse suggerisco se non ci sono tempi lunghi nella consegna ma lunghi davvero è molto meglio occuparsi solo di dargli acqua perché appunto è la cosa più importante e magari il cibo è una cosa che può avvenire in un secondo momento o se no l'alternativa è fare una ricerca in rete vedere sulla base della specie se la conoscete vedere che cosa mangia in natura calcolare se è un piccolo o un adulto oppure chiamare un'associazione spiegare quello che avete trovato e salvato e farvi dare i consigli che può essere la cosa migliore magari mandandogli una foto dell'animale così c'è anche una certezza da parte di chi vi risponde volevo anche dirvi che se per caso fosse un granivoro attualmente è diventato molto più facile trovare i semi in giro perché siccome vi sono diverse persone che vi aggiungono le insalate una volta ritrovate solo i consorzi adesso se invece guardate nei banchi tipo nocciole tritate nocci tritate eccetera a volte trovate i semi di qualcosa e quindi se fosse appunto un animale che mangia i semi non dovete andare a venire ma cercarli dove li trovate in qualsiasi supermercato nel reparto alimentare li trovate sì poi diciamo che ormai nei supermercati c'è anche molto cibo per animali per cui trovate anche le scatolette di semi di semi specifici per cui diciamo che potete avere una vasta scelta fra quelli che diceva giustamente la professoressa e quelli specifici insomma l'importante è avere la certezza che la specie mangi quello che che voi gli offrite se non ci sono domande passo alla diapositiva successiva e abbiamo la lucertola anzi prima abbiamo il coleotero e poi la lucertola allora sicuramente mi sembra un'ottima attenzione un ottimo messaggio quello di non uccidere nel senso che non ha un senso uccidere un animale quando solo si può tranquillamente liberare per cui va benissimo l'idea di proteggersi le mani che poi questo riguarda diciamo soprattutto se fossero magari animali particolari come api vespe in situazioni di difficoltà però diciamo che per i coleotteri è impossibile che facciano che facciano un danno potete prendere un foglio e usarlo per prendere per prendere l'insetto o anche appunto capovolgendo un bicchiere uno dei buoni trucchi potrebbe essere copri l'insetto con un bicchiere e sotto il bicchiere fai scivolare un foglio di carta a quel punto diciamo che tenendo poi la carta o il cartoncino premuto insieme al bicchiere lo ruotate e a quel punto poi siete anche agevolati nel portarlo all'esterno e lasciarlo e lasciarlo libero e ovviamente la maggioranza degli insetti non sono non sono dannosi non sono pericolosi per l'uomo ci sono alcuni impollinatori con appunto api vespe e calabroni che possono essere in qualche modo pericolosi sicuramente la cosa più intelligente è quella di non farsi prendere dal panico non fare movimenti inconsulti perché poi alla fine in realtà tutti questi animali che possono entrare in una stanza o comunque avvicinarsi anche specie le vespe ad esempio al cibo se siamo fuori a consumarlo sono animali che comunque reagiscono allo spavento per cui non è che vi pungano perché effettivamente vogliono fare un danno ma il punto principale è che inevitabilmente sentendosi in pericolo attuano un comportamento difensivo e il comportamento difensivo per questo tipo di animali e di insetti è quello di di pungere in particolar modo le vespe perché mentre le api hanno la possibilità di fare una sola puntura e di non ripeterla perché nel momento in cui pungono perdono il pungiglione le vespe possono fare ripetute punture e questo è il motivo per cui poi possono creare maggiori problemi ancora maggiori problemi ma ovviamente solo diciamo alle persone che possono avere allergie nei confronti di questi animali li provocano i calabroni che sono diciamo assomigliano alle vespe di grande dimensione sono anche loro striati e possono e possono appunto creare degli shock anafilattici e quindi creare poi problemi problemi serie delle persone quindi da questo punto di vista diciamo che bisogna cercare di adottare tutte le cautene possibili ma soprattutto non cercare di allontanarli a mani nude con movimenti inconsulti o con cose con stracci perché si finisce che il rischio di farsi di farsi pungere poi diventa assolutamente importante tenete presente poi che ci sono una natura infinitamente intelligente e ci sono una serie di animali che assomigliano soprattutto alle vespe e anche però alle api ma che non appartengono a nessuna delle specie che non pungono perché sfruttano quello che scientificamente si chiama il mimetismo battesiano cioè l'assomigliare a un'altra specie che in qualche modo possa essere pericolosa per limitare le aggressioni da parte dei nemici e quindi ci sono animali ma anche delle piccole mosche che assomigliano ad esempio delle vespe e questo perché appunto mettono in atto l'evoluzione e gli ha fatto mettere in atto una strategia difensiva intelligente Umberto diciamo che precauzionalmente non cercare di identificare quelle che si sono cercate di monetizzare come come veste per non rischiare no su questa non ho aggiungere no no la mia è una curiosità sicuramente non andrei a giocare sicuramente diciamo che gli insetti cercate di lasciarli tranquilli e fuori è sicuramente la cosa migliore abbiamo poi una slide specifica sulle apri e le vespe a me questa sembra fatta molto bene questa dei coleotteri e questa è la sua strategia del bicchiere con il capovolto e poi dopo il foglio di carta da sotto perché mi sembrano un video intelligente per catturarle e mandarle fuori sì un bicchiere o un vasetto io quello che vi consiglio è di non usare un bicchiere di carta o ovviamente neanche motivo molto semplice che se usate un vasetto di vetro o un bicchiere di vetro voi avete sempre la certezza di dove l'animale se lo mettete in un bicchiere dove non vedete l'interno rischiate di non sapere esattamente dov'è l'ideale sarebbe che nel momento in cui lo liberate l'animale sia sul fondo per cui dovete poterlo vedere sicuramente vi agevola ed è anche un modo magari per dargli brevemente senza tenerlo imprigionato per lungo tempo ma anche un modo per dargli un'occhiata in sicurezza volevo dirvi anche che io l'ho visto fare con i ragni però vi confesso una cosa voi cari amici degli animali io ho un cattivissimo rapporto con i ragni per cui sì cerco di mandarli fuori con i fogli di carta ma da lì a prenderli sotto un bicchiere per guardarli bene magari anche noi prima lasciano casa mia prima sono contenta le devo dire che anche io avevo anni e anni fa un pessimo rapporto con i ragni nel senso che erano gli unici animali per i quali avevo proprio un senso di disagio mi sono messo a osservarli con attenzione e più li conoscevo e più vedevo i comportamenti e più riuscivo ad avere un comportamento meno spaventato perché poi alla fine molte volte veramente l'osservazione fa vedere le cose in un modo diverso e attenua anche un po' quelle che sono le nostre le nostre paure poi ci sono animali che da questo punto di vista sono totemici per le paure i ragni i topi e i serpenti e questo è il motivo della mia della mia immagine di oggi noi in Fattani abbiamo anche gli scorpioni voi li avete gli scorpioni in città? Sicuramente sì ci sono anche a Milano gli scorpioni i piccoli scorpioncini neri anche loro sono animali diciamo fra virgolette abbastanza innocui l'unico l'unico problema che hanno in genere è il pungiglione caudale però i piccoli scorpioni gli scorpioni comunque europei che sono quasi tutti appunto poche specie non rappresentano un pericolo per l'uomo per cui alla fine è una ferita dolorosa magari fastidiosa però niente di pericoloso avete domande sulla questione con le otteri ancora o passiamo alla slide successiva allora passando alle lucertole e questo è il motivo appunto per cui al mie spalle c'è anche un abisce un serpente è che in effetti questi animali incutono come i topi una grande paura io vi inviterei ad aggiungere le lucertole anche proprio le bisce perché in effetti a Milano sono tante le bisce che si possono trovare per i più svariati motivi un po' perché ce le portano nel senso che la gente inconsapevolmente le trasporta perché tutti i rettili essendo animali a sangue freddo cercano fonti di calore molto spesso le macchine rappresentano una fonte di calore nelle prime giornate fredde e quindi finisce che queste bisce salgono nei cofoni dei motori e si trovano in una posizione agevolata altre volte semplicemente perché vanno in giro perché esplorano il territorio perché cercano cibo e quindi si possono trovare in situazioni diciamo che non sono gradite agli uomini ma che per loro sono assolutamente naturali in Italia abbiamo soltanto alcune specie di vipera che possono essere pericolose per l'uomo anche se molto veramente mortali tutti gli altri serpenti dai biacchi alle natrici ai colubri sono assolutamente innocui quindi non c'è una ragione di averne paura non c'è una ragione di ucciderli possono dare dei piccoli morsi ma sono morsi appunto innocui e non fanno non fanno un grande danno sono animali che incutano paura ad esempio il biacco è un animale che incutte paura stiamo parlando di una biscia che raggiunge il metro e venti il metro e trenta che però è molto reattiva è molto è molto aggressiva si mette in alto con la testina come un cobra simula degli attacchi per spaventare e quindi questo può creare poi una sorta di disagio un'idea di pericolo nella realtà potete comportarvi esattamente come fareste con le lucerzo dove è possibile trovare un contenitore che può essere in questo caso magari ovviamente non un bicchiere perché non ci starebbe un biacco dentro un bicchiere ma un secchio e una setta qualche cosa con cui tappare il secchio e portarlo poi da un'altra parte quindi da questo punto di vista va bene per le lucertole va bene per i biacchi va bene per le natrici e per tutto quello che è il mondo un po' del rettile tenete presente che può capitare di trovare questi animali in una condizione di scarsissima reattività perché come vi dicevo prima sono animali a sangue freddo quindi in inverno vanno non in letargo perché non sono mammiferi ma in ibernazione e riducono le loro funzioni vitali al minimo e però per il loro momento di maggior reattività e di maggior vitalità è quello in cui fa caldo è la stagione in cui fa caldo e il momento in cui loro possono ricevere il massimo alla massima di radiazione solare questo è il motivo per cui spesso può capitare ad esempio di trovare bisce lucertole e altri rettili sulle strade sui bordi dei muretti perché in effetti esposti al sole accumulano calore e gli animali vanno poi per trovare per trovare calore quindi anche l'asfalto ad esempio quando il sole scende l'asfalto prima di raffreddarsi ci mette tempo e quindi ancora per un periodo in cui magari il sole non è più forte e non è sufficiente come calore l'asfalto dà una possibilità a questi animali di essere mobili quindi possono essere appunto catturati con attenzione e liberati senza problemi perché non sono pericolosi una cosa che vi posso dire non vi fidate del fatto che i serpenti sembrano morti sembrano morti perché in effetti i serpenti mettono in atto questa strategia difensiva che si chiama tanatosi quella di assomigliare ad animali morti e per cui si mettono magari con la pancia all'aria e la bocca spalancata è un comportamento che hanno spesso le natrici dal collare e si fingono morte quindi non fidatevi mai siate sempre cauti e spostateli con le dovute attenzioni e usate magari sempre dei guanti per proteggervi da eventuali piccoli morsi che se più innocui non fanno mai piacere Umberto Su questo aggiungerei due cose siamo passati anche ai serpenti forse è meglio sempre consultarci mandandoci una foto perché ci si può anche trovare davanti ad un esotico serpenti che vengono abbandonati e non sono autoptoni quindi non vanno comunque catturati riliberati ma andrebbero recuperati perché non possono sopravvivere in natura e l'altra cosa forse a questo punto direi di aggiungere anche tachemis tartarughe cosa dice Armanno sono altri animali che comunque soprattutto fontane fontanili capita spesso che poi possono essere trovate magari con ferite importanti in quel caso anche in quel caso intervenire recuperarle e contattare un centro che possa accogliere allora diciamo che stavamo parlando di animali selvatici e io mi avevo fermato a quello però in effetti l'osservazione di Umberto è corretta moltissima gente in questi ultimi anni ha deciso di tenere come animale da compagnia gli animali più strani perché poi alla fine tutto quello che non è protetto in Italia è commerciabile detenibile o quasi e quindi finisce che le persone si tengono in casa il pitone il gecko tailandese animali di ogni tipo e genere ovviamente poi un po' scappano un po' le persone si stufano e quindi per questi animali molto spesso vengono liberati e vengono ritrovati ritrovati da noi per cui in effetti diciamo che è sempre buona norma avere attenzione rispetto a quello che possono essere gli animali ovviamente diciamo che le nostre bisce sono tutte relativamente di piccole dimensioni nel senso che raggiungono una lunghezza massima di circa due metri ma hanno anche una dimensione un diametro relativamente piccolo un pitone un boa sono animali molto più importanti hanno una maculatura completamente diversa diciamo che avete anche una possibilità diversa di rinvenirli lo stesso discorso vale per le trachemis le trachemis sono animali le trachemis è tutto quello che è il mondo un po' delle tartarughe palustri non nostre sono animali che sono commercializzati per essere tenuti come animali da compagnia ed è una pessima idea e spesso anche loro poi fanno una brutta fine perché le persone si stufano questi animali vengono comprati piccoli e i negozianti spesso barano raccontando che resteranno piccoli per tutta la vita poi diventano grandi come una padella sul frigorifero e le persone prendono e li buttano in fontane o dove capita infatti se voi vedete sicuramente avrete visto girando in ogni laghetto dal parco sempre un parco di trenno è pieno di queste tartarughe che occhieggiano e che molto spesso poi per varie ragioni finiscono a procurarsi traumi a essere ferite e ovviamente vanno soccorse e consegnate alle associazioni un problema non piccolo da risolvere e quindi su questo diciamo che facciamo un volo rapido è che le tartarughe verdi le tartarughe cosiddette della Florida sono inserite fra gli animali all'opto in invasivi e quindi questo complica poi tutta la questione anche del conferimento perché oramai nessuno le vuole più difficilmente si sanno dove mettere e questo complica veramente molto però ovviamente siccome il soccorso a un animale come una persona in difficoltà è sempre dovuto ed è una norma di buon senso e di civiltà sicuramente se vedete un animale di qualsiasi specie sia ferito chiamate un'associazione e chiamate EMP e vediamo di trovare una soluzione la miglior soluzione possibile o quantomeno diciamo gli si può garantire un registro veterinario e capire cosa si può fare si fa vedere il gruppo qualcuno del gruppo alcuni? sì io sono del gruppo d'accordo grazie Emma allora io propongo questo con le otto del uccierto mi sembra che restino uguale se non ricordo male a parte il discorso del bicchiere di plastica trasparente aggiungete una terza slide nella quale mettete la terza slide in cui mettete la tanta luce e la biscia e il serpente magari possiamo dire che le bisce sono l'autotone che altri serpenti non lo sono è che se li vediamo in difficoltà chiamare l'associazione di l'idrotega questa può essere un'idea li richiamiamo in questo modo perché effettivamente di 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 sono ma torini io volevo chiedere al va bene Emma fa così volevo chiedere a giudici al dottor giudice al dottor come si fa a distinguere perché un bianco può essere maculato o può essere nero sono il maschio e la femmina un dimorfismo sessuale perché io li ho visti neri lisci bellissimi sui bordi delle strade asfaltate però guardando su internet ho visto che ci sono anche bianchi e neri e poi invece a voi gruppo Emma volevo chiedere trovo una scatola e ripone all'interno l'animale mi sono chiesta ma come la catturi la lucertola corre come una velocissima sì no in realtà non saprei come rispondere perché il punto è che dovremmo trovare una risposta perché sennò te la chiedono gli studenti bisognerebbe cercare di prenderla però se la prendi in mano senza cercare di far male all'animale credo allora la cosa potete fare a seconda dipende un po' dalle posizioni può essere quella o di cercare di prendere una scatola con una scapola da scarpe senza coperchio e calagliela dall'alto con un movimento attento perché se lo fate troppo velocemente e la lucertola esce rischiate di fargli del male o se no l'alternativa potrebbe essere in genere loro per una questione di difesa cercano comunque dei ripari allora potrebbe essere quello di prendere una scatola fargli un'apertura non tanto grande che può essere non so due centimetri tre centimetri per tre centimetri e cercare di metterla a terra e spaventare l'animale perché vada verso la scatola tenderà a infilarsi perché comunque loro cercano luoghi riparati e luoghi bui perché sanno che in quel in quel modo si nascondono dai predatori non ci sono altri consigli perché in effetti diciamo che la cattura la cattura manuale diventa problematica può causare una serie di stress tra l'altro non vi spaventate se le lucertole dovessero perdere la coda perché è una strategia difensiva delle lucertole e quindi quando si sentono gravemente minacciate in pericolo si staccano la coda che poi ricresce e in questo modo la coda continua comunque a muoversi perché è innervata distrae il predatore e gli consente di arrivare a mettersi in salvo quasi sempre e quindi questo non vi spaventate non è una cosa che avete causato direttamente è un comportamento derivato sicuramente dalla situazione di stress ma non è non la dovete prendere come una colpa insomma per quanto riguarda invece la colorazione degli animali non tutti gli animali hanno le stesse livree per cui non c'è una questione di morfismo sessuale nei biacchi è una questione proprio di pigmentazione ci sono esemplari melanici che sono completamente neri e altri che hanno macchie di varie colorazioni che possono avere una prevalenza di marrone di verde di giallo è per quello che molte volte l'identificazione diventa complicata poi esistono una serie di caratteristiche distintive che consentono all'esperto di avvicinarsi e capire la specie a cui appartengono per quanto riguarda ad esempio la divisione fra venenosi e non venenosi il consiglio che vi posso dare è che è veramente semplicissimo tutte le vipere hanno gli occhi come i gatti e quindi hanno la pupilla verticale tutti gli animali i rettili italiani non venenosi hanno la pupilla tonda per cui se vedete un animale con la pupilla tonda posto che non sia un esotico e lì si apre un mondo infinito però diciamo che la detenzione di rettili venenosi in Italia è vietata per cui è un'ipotesi veramente molto molto residuale questa divisione fra vipere e bisce è molto semplice legata agli occhi un secondo punto distintivo è la coda le bisce hanno tutta una coda molto lunga che prosegue in modo armonico lungo il corpo alla fine del corpo le vipere hanno un corpo abbastanza tozzo che finisce quasi improvvisamente con una coda molto corta che sembra un po' applicata per cui coda e pupilla insieme vi danno l'idea vipera non vipera chiaro molto chiaro comunque volevo raccontarvi che una mia amica è andata in montagna ha parcheggiato l'automobile ha detto qui non ci sono i labri che ci sono magari in città lascio chiuso le finestrini dell'automobile così quando torno dopo la camminata mi trovo l'auto fresca poi torna a prendere la macchina e si trova a guidare sulla Torino o Milano e si trova che ha una vipera dentro l'automobile quindi sconsiglio molto vivamente anche perché se l'è poi portata fino a casa non sapeva come fare per toglierla quindi sconsiglio di lasciare le finestrini abbassate quando siete in qualche posto campagnoso o in montagna che magari diventa un animale diciamo che è una cosa che succede abbastanza spesso io nella mia vita e i miei colleghi abbiamo recuperato decine di serpenti centinaia che sono entrati negli abitacoli le do però una brutta notizia nel senso che non entrano solo dei finestrini le macchine le macchine sono comunque permeabili per loro e anche attraverso i condotti di aerazione può succedere che questo avvenga per cui consiglio di parcheggiare sempre in zone che magari non siano particolarmente cioè parcheggiare sopra i cespugli ad esempio oltre a non essere particolarmente civile può creare anche la difficoltà di portarsi a casa un ospite ma tra l'altro non soltanto di questo genere ultimamente noi abbiamo trovato un furgone che è tornato dalla Val d'Aostra con una marmotta perché anche le marmotte in effetti tendono a cercare il calore ad arrampicarsi per cui in alcune zone di montagna dove le marmotte sono diffuse molto diffuse voi vedete che tutte le macchine parcheggiate hanno tutto intorno una rete di metallo con dei sassi per evitare che le marmotte salgano non tanto per non portarsene a casa ma perché essendo roditori ed essendo animali comunque curiosi finisce che vanno a mordere tutti i tubi e tutti i cavi e quindi questo alla fine crea un danno rilevante all'automobilista e quindi tutti si proteggono da questo punto di vista va bene allora il gruppo potrebbe aggiungere una terza slide per favore avete chiaro come farla? sì 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 va bene va bene grazie avete altre domande? c'è qualcosa che volete chiedere? qualche dubbio? siamo stati bravissimi Umberto velocissimi non abbiamo lasciato dubbi ne manca una ci mancano le api le api e le vespre sicuramente secondo me anche i rapaci è vero è anche i rapaci aspettate perché può darsi che allora io abbia le rapaci non sono sicure ma sicuramente le vespre e le api allora questo qui mancano anche i rapaci ok allora scusate colpa mia colpa mia però devo io ho aperto quelle che vediamo vediamo un attimo di pazienza intanto che lei cerca io faccio presente ai ragazzi che siamo in periodo di denuncia dei redditi e quindi forse è possibile donare 5 per mille 3 per mille qualcosa del genere all'empa siete tra quelli per cui si possono fare donazioni sì 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 sicuramente sicuramente usando il codice fiscale quindi se i vostri genitori non sanno come come dare per per queste moci qua che sono previste le tasse il 5 per cento 3 per mille infatti diavolo sapete che potete anche dare dei consigli scusate un attimo che lo mando eh lo mando ve lo già mandate ah ok mi sono perso io comunque se si va in giro sui fiumi in questo intorno a Milano in questo periodo ci sono tutti i piccoli anatroccoli piccoli germani legali le piccole folaghe è uno spettacolo i cignetti eh sì diciamo che per noi poi sono comunque una grande fonte di di lavoro perché in effetti il problema è che soprattutto le anatre le persone non lo sanno ma hanno un'abitudine a nidificare in tutti i posti del mondo e tra l'altro anche con proprio scelta di posti completamente sbagliati per cui loro sono abituate a poter nidificare nei cavi degli alberi eccetera e quindi hanno hanno questa abitudine di nidificare ad esempio sulle terrazze sulle fioriere al settimo piano in mezzo all'aiuola spartitraffico dell'autostrade e quindi ovviamente tutto va bene fino a che c'è manmana che cova e tutto diventa un problema quando poi ci sono i piccoli che devono spostarsi perché ovviamente vanno messi in sicurezza e questo crea una serie di di problematiche non di poco conto si vede? si si ok allora questa qui la spostiamo ok lo sciame d'api in effetti è una è una è una questione che può succedere abbastanza frequentemente perché in primavera in genere le api si dividono e quindi nascono lascia la regina nuova che si porta via una parte dell'alveare e quindi si fa seguire poi da questi sciami che devono andare a cercare o un nuovo alveare o di costruire un alveare e questo le porta ad aggregarsi alcune volte in posti stranissimi tipo infenditure fra i palazzi tipo sui lampioni sui segnali stradali e questo crea appunto una serie di 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 problemi tenete presente che normalmente cioè che anzi che sciamano solo le api e che nella realtà le api anche se ormai ne siamo abituati a vedere le api e a pensare le api col collegamento ape arnia e quindi ape apicultore nella realtà le api in natura hanno dei loro favi e quindi costruiscono degli alveari se non vengono messi all'interno delle 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 arnie e quindi per loro sciamare è proprio una cosa assolutamente naturale in questo caso sicuramente bisogna stare lontani perché ovviamente nell'insieme il rischio delle punture aumenta bisogna chiamare i pompieri o i vigili urbani che adesso ormai però è forse meglio sostituirla con la polizia locale perché i vigili urbani di fatto non ci sono più nel senso che sono stati sostituiti dalla polizia locale che contattano gli apicultori di riferimento ogni comando ha una serie di nominativi perché in effetti per quanto sembri incredibile per riuscire a prendere tutte le api in un colpo solo l'apicultore deve semplicemente avvicinarsi individuare la regina prendere la regina metterla all'interno di un'apposita cassetta e tutte le api seguiranno la regina e entreranno nella cassetta senza nessun tipo di problema e quindi da questo punto di vista diciamo che il momento è impegnativo ma la cattura per una persona esperta è relativamente semplice cosa non fare allora urlare a fare movimenti bruschi vicino al nido diciamo che api e vespe non hanno nidi ma hanno comunque alveari quindi togliere i nido con alveare diciamo che più che urlare sono sicuramente i movimenti bruschi che possono creare problema o un eccesso di vicinanza e anche l'avere addosso colori sgargianti può creare qualche problema non perché gli animali si nervosiscano ma perché sono attirati da alcuni colori e quindi possono più facilmente avvicinarsi anche se nel caso di sciamatura dello sciame d'api il loro interesse primario non è tanto quello di andare sui fiori ovviamente ma è quello di trovare un posto dove costruire la nuova casa quindi questa è un po' la intervenire cercando di rinnovare con la forza di strugare l'alveare non va bene perché l'alveare non c'è ancora quindi durante la sciamatura abbiamo solo un'aggregazione di api e non un alveare utilizzare sostanze tossiche pesticidi o esseticidi oltre a essere illegale perché le api sono comunque protette è una grossa stupidaggine così come cercare di distruggere con il fuoco l'intervento corretto sicuramente aggiungerei su questo che utilizzare sostanze tossiche eccetera anche perché è vietato e quindi oltretutto si rischia anche di incorrere in una sanzione oltre al fatto che si fa come un condanno perché le api e tutti gli insetti impollinatori sono in numero sempre decrescente e abbiamo un'importanza di tutelarle sempre con grado di attenzione per cui dobbiamo aiutarle e non certo metterle in difficoltà tant'è vero che molte amministrazioni compresa quella di Milano sta mettendo una serie di alveari urbani sui tetti all'interno delle zone verdi in zone cintate dove le api possano comunque avere delle arnie e svolgere il loro lavoro per cui è un periodo in cui c'è veramente molta molta attenzione nei confronti delle api Umberto vuoi aggiungere qualcosa il gruppo che ha fatto questo lavoro facciamo ripio con delle cose da correggere chi ha fatto questo lavoro studenti mi vedo che siete ancora tutti 24 chi ha fatto questo lavoro io però benissimo Elisa facciamo il punto allora dobbiamo sostituire vigili urbani che è polizia municipale che cosa c'era polizia locale polizia locale è vero polizia locale poi dobbiamo togliere urlare non è un gran problema dobbiamo correggere rimuovere con forza le alveare torniamo proprio la frase sì direi di sì diciamo che bisognerebbe se no fare un periodo diverso dove intervenire cercando a quel punto non c'è una rimozione dell'alveare ma di distruggere l'aggregazione degli animali però forse sarebbe più interessante togliere proprio il periodo forse la cosa migliore e poi mi ha messo usare anche perché è vietato dalla legge esatto e va bene anche la vostra grafica è molto bella lo sciame di vespe lo lascerete il mano no lo sciame di vespe va tolto perché le vespe non sciamano le vespe fanno colonie molto molto piccole per cui le vespe cartonaie hanno in genere nidi che possono avere una decina una lozzina di animali ma non hanno ho visto recentemente una vespa singola che si stava facendo su alveare sì le cartonaie fanno queste un po' questi nidi che sembrano di girasoli rovesciati tutti con i buchini con le cellette e possono essere anche singole assolutamente per cui non sempre vivo non sono animali sociali per cui diciamo che l'aggregazione è più dovuta magari alla presenza contemporanea di più animali interessati a fare un nido in un certo posto che non fare un piccolo alveare in un certo posto che non ok quindi questa frase diventa riconosce se si tratta di api o vespe con l'endola per lo sciame esatto sì diciamo che sono anche potrebbe essere forse carino se avete voglia integrare magari le le foto sostituendo magari o mettendogliela sopra insertandola un'ape o una vespa per far capire la differenza perché in effetti non è solo la peluria ma sono un po' anche i colori sono sono tante cose insomma per cui in effetti per le vespe più comuni sono le cartonaie magari potrebbe essere interessante far vedere la differenza io aggiungerei anche vi sono insetti e farfalle che si mimetizzano da api e vespe perché per esempio perché questo è vero e quindi sono proprio innocue sì sì assolutamente va bene gruppo avete delle domande no no tutto chiaro perfetto va bene allora ripassiamo all'ultimo all'ultimo all'ultima slide cosa fare se ti capita di trovare un rapace in casa o il vittorini allora di rapace a Milano ce ne sono davvero davvero tanti anche se possono essere poco visibili allora sicuramente da questa slide va tolto il pappagallo perché quello rosso e giallo è un'ara e non è un rapace nonostante il becco che può trarre in inganno perché i pappagalli hanno un becco che assomiglia molto a quello dei rapaci non è non è un rapace quindi non c'entra non c'entra nulla in effetti diciamo che i rapaci se non sono feriti non hanno una necessità di essere rimossi nel senso che non entrano casualmente a meno che non si tratti di animali molto particolari tipo gli spavieri che magari possono entrare nei capannoni inseguendo animali che stanno cacciando e possono una cosa se a questo punto diventa un problema cercare di farli uscire però è veramente difficile che un rapace entri in una scuola può succedere che abbia una collisione con un vetro può succedere che ci sia un piccolo che cade dal nido e che non sia ancora pronto per l'involo ma diciamo che non c'è se non è un animale ferito non c'è la necessità di cattura e di spostamento per cui da questo punto di vista direi che il problema non non si pone sicuramente se sono feriti vanno catturati con un telo è sempre meglio usare dei guanti quindi aggiungerei di utilizzare i guanti adagiati in scatole sicuramente va benissimo e il corpo forestale dello Stato lo cambiamo sempre con con i carabinieri forestali o la polizia locale e direi che a questo punto anche anche dargli l'acqua eventualmente va bene se un animale è ferito però attenzione perché i rapaci sono animali che si stressano molto facilmente quindi se sono animali feriti il consiglio è di consegnarli nel minor tempo possibile a un centro di recupero e eviterei eviterei altre manualità se avete le necessità di tenerli per un periodo più lungo sicuramente dargli dell'acqua e se sono animali che per certo sapete che sono rapaci potete pensare di mettergli dentro dei piccoli bocconcini di carne e vedere se per caso da solo li mangiano autonomamente eviterei qualsiasi altro tipo di forzatura e così come prendere nota dal suo abito naturale per portarlo in seguito no perché non catturerete mai un animale sano ma soltanto un animale ferito che a quel punto deve essere consegnato a un crass e quindi questa parte non ha un suo perché come immagine vi sto mandando un'immagine del falco peregrino perché i falchi noi li abbiamo a Milano io ne ho visti uno recentemente su un cavo dell'alta tensione della zona di Certosa che era tangenziale era lì che dominava la tangenziale guardava le macchine che passavano e sembrava anche incredibile che fosse lì però se cercate su internet ci sono anche quelli sul guattacielo pirelli che hanno messo la guetta se dominano la tangenziale però io credo che fosse una poiana e non un falco pellegrino attenta perché il falco pellegrino ha delle degli abitati delle caratteristiche completamente diverse per cui non caccia al suolo ma caccia in volo gli interessa molto poco guardare il territorio gli interessa più individuare le prede e quindi da questo punto di vista sicuramente è più facile che fosse una poiana che comunque era una pace di grandi dimensioni mentre i falchi del pirelli che vivono sul pirelli a parte che purtroppo uno si è appena schiantato contro una superficie vetrata ed è morto e questo purtroppo è uno dei grandi problemi provocati dagli latacieli vetrati dalle costruzioni e altre vetrate però diciamo che la città per i falchi pellegrini è particolarmente ospitale perché è piena di piccioni che sono il loro cibo d'elezione Umberto hai qualcosa da aggiungere? No stavo pensando ma no non c'è altro sì correggerei il titolo appunto cosa fare se ti capi di trovare una pace in difficoltà perché davvero in tutti i casi di recupero di rapaci in casa quasi ma non mai in difficoltà lascerei in generale cosa non cambia se trovare una pace oppure trovare una pace in difficoltà in difficoltà scusatemi ma sono proprio una curiosità non capita perché siamo in città perché invece per esempio una persona che conosco a Bussolo si è trovata un gufo sopra al letto un gufo no allora può succedere anche in città però non parliamo più allora di animali selvatici ma parliamo di falchi da falconeria o di rapaci usati per la falconeria che scappati al controllo del falconiere siccome hanno una consuetudine a convivere con l'uomo possono a quel punto non aver paura entrare nelle case questo in effetti può succedere sono episodi davvero molto rari però in questo caso può succedere purtroppo ci sono appassionati che tengono questi animali in cattività e li condizionano a fare una serie di 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 attività e ad avere comportamenti che sono un po' incompatibili con la loro natura e da questo punto di vista possono avere come effetto collaterale il fatto che appunto non avendo paura dell'uomo possono anche arrivare tra delle case però parliamo veramente di episodi abbastanza rari per fortuna potrebbero anche essere in anellate parlando di quelli da falconeria quindi avere un anello di riconoscimento sulle zanpe sì diciamo che normalmente i falchi da falconeria si riconoscono anche perché hanno alle zampe normalmente i geti che sono queste cinghie di cuoio con i quali il falconiere li trattiene e quindi diciamo che quelli sono più apparenti anche da lontano rispetto a un anello che magari potrebbe essere sotto le piume anche perché poi non sempre hanno un anello ma alcune volte hanno anche sono identificati con un microchip perché sono tutti animali protetti e quindi per essere tenuti legalmente devono avere una provenienza certificata e questo è il motivo per cui sono sono muniti di un contrassegio di identificazione nel frattempo ho mandato una fotografia di falco pellegrino del pirellone due componenti del gruppo l'altro mi torna indietro non so perché però mi vedete che su così sto dietro il papagallo ara che non è proprio il caso e perché non è simbatico poi purtroppo le storie di convivenza con il papagallo ara sono tutte tristissime perché quelle che conosco io perché sono degli animali belli ma molto impegnativi a parte che non è proprio il caso di sradicare animali selvatici del loro habitat ma poi per esempio avevo una per conoscere una persona che aveva un patagallo ara domesticissimo loro sono da quello che mi ha raccontato poi qui ho due esperti mi possono dire se ragiono se torto si attaccano ad un componente della famiglia come se fosse il loro marito o moglie perché essendo animali monogamici molto fedeli e qui questo papagallo ara si era attaccato in maniera esclusiva ad un signore che aveva una piscina ed era un animale talmente domestico che lui poteva tenerlo tranquillamente in giro perché in effetti quello stava in cima ai mobili a guardare le persone in le biglietterie eccetera e poi un giorno gliel'hanno rubato e ci siamo tutti disperati perché come avrebbe potuto sopravvivere anche psicologicamente un animale così attaccato in modo esclusivo con una persona quindi insomma io sconsiglierei proprio di prendere i papagalli sì diciamo che gli animali selvatici in cattività non devono stare non stanno mai bene aggiungiamo anche che gli animali restano selvatici anche se sono riprodotti in cattività nel senso che un papagallo non ha una storia di domesticazione come un cane e quindi anche se da qualche anno viene riprodotto in cattività resta sempre un animale che ha consuetudini e abitudini selvatiche per cui poi alcune volte ce ne sono alcuni che anche in libertà una volta scappati riescono a vivere infatti Milano ha delle colonie di parrocchetti dal collare che sono questi pappagalli verdi con una riga nera sotto il collo c'è stato un periodo che per anni ci sono state una coppia di Ara che vivevano in piazza Piemonte si sono riprodotti addirittura una coppia di Amazzo in piazza della Repubblica per cui alla fine gli animali diciamo che hanno la sfortuna di adattarsi anche agli ambienti talvolta sbagliati per cui molti muoiono ma qualcuno alla fine ce la fa sempre per cui è il motivo per cui poi adesso i pappagalli dal collare che sono scappati stanno riempiendo piano piano le nostre città da Milano a Palermo per cui diventano una presenza esotica che sarebbe stata poco desiderabile ma che ormai è con noi ragazzi avete delle domande? no no adesso correggiamo poi lo rinviamo grazie allora io veramente vi ringrazio molto cari amici dell'EMBA perché siete stati straordinari simpaticissimi completi abbiamo imparato tante cose interessanti sicuramente ci prenderemo più cura degli animali della città del Vittorini abbiamo più strumenti per poterlo fare e spero che nasca negli studenti sia chi ha partecipato a questo progetto sia chi deviderà il prodotto la passione anche nascono magari dei volontari che possono collaborare con voi banalmente persone appunto che vi sostengono voi ci avete dedicato molto tempo e avete aiutato tutti noi a costruire questo va bene con soluzioni pratiche per l'uso noi lo pubblichiamo in modo tale che sia visibile per chiunque dovesse essere utile per voi citarlo vederlo utilizzarlo utilizzatelo senza problemi anche voi dell'EMPA perché io personalmente tutti noi crediamo nella circolazione delle idee dei prodotti e quindi questo è un lavoro che hanno fatto i ragazzi di cui devono essere giustamente orgogliosi però è diventato patrimonio comune di tutti noi perché anche voi dottor Di Bonaventura dottor Giudice avete impiegato le vostre grandi competenze l'esperienza che avete per renderlo davvero uno strumento corretto oltre che utile ai ragazzi devo dire che è anche uno strumento bello siete stati molto bravi l'ho detto lo ridico sono delle slide veramente molto intervegne dal punto di istante estetico e quindi chissà che sia l'inizio di una collaborazione più grande che prosegua nel tempo grazie di cuore sono passate ampiamente le due ore e quindi vi saluto e vi ringrazio tanto grazie a voi buon lavoro e sicuramente condivido che il far circolare informazioni e buone informazioni sia un ottimo modo per tutelare gli animali e grazie anche ai ragazzi che hanno fatto veramente un bel lavoro complimenti un'ottima esperienza grazie ancora anche per l'invito e per la proposta che abbiamo accorto ovviamente molto volentieri grazie mi mandate la registrazione che così la unisco a tutta la documentazione che abbiamo prodotto per chi in futuro vorrà riguardare e studiare anche per conto proprio tutto questo grazie di cuore di nuovo buonasera a tutti grazie grazie arrivederci sto preparando tutti gli attestati sto preparando tutti gli attestati PPCO nel giro di un paio di giorni li avete grazie arrivederci arrivederci buonasera a tutti e grazie di cuore siete stati grandiosi grazie grazie a lei per l'impegno una buona serata buona serata grazie a tutti